Noi stiamo facendo il laboratorio inclusivo. Diciamo che siamo quasi tutte ipovedenti, Tania, Tiziana, Mariella e Stella e Giovanna che ci filma. Io sto cercando di provare a fare un portacellulare. Che bello! Piera, cosa fai di bello? Ma te ne so, qualcosa verrà fuori, non lo so. Per adesso non si capisce. Poi andiamo a fare il giro, andiamo a vedere. Vabbè, Mariella sta facendo una collana con la fettuccia. Con la fettuccia, mamma mia che bella. Guarda che questa con i nipallini. Tutti i colori possibili. Bello, fa la treccia. Sì, sono collane molto moderne, molto strose. E poi ci sono anche queste con i pendagli, con i medaglioni. Renata ha queste parti, tutte le aggeggi, è attrezzatissima per fare gli anelli. Fa degli anelli meravigliosi. Dopo le facciamo vedere uno. Poi mi insegni, perché visto che non posso tenere la mano portata per fare l'uncinetto. Mi insegna subito. Ecco. Che cosa? Ah, qui c'è un'altra concentratissima. Io sto imparando. Wow. Perché non lo so fare. Bellissimo, Carolina. E sto imparando a utilizzare i ferri. Ci sono a casa più che bene. Ci siamo, ci siamo. Sì, c'è, c'è. Adesso carico qualcosa. E tu che fai una cosa bellissima invece qui, una borsa. Sto facendo una maglia. No, no, una maglia. Con quel famoso ferro tondo che ho sentito nominare solo ieri. No, è molto utile perché puoi lavorare sia in tonno che in piano, girando. E poi ci stanno molte più maglie del solido. Poi puoi fare le maglie senza cuciture. Senza cuciture, di fatti. Io poi salgo su, poi faccio lo scollo delle mani o addirittura partendo dall'alto in basso senza cuciture. Parti dal colletto, ne ho fatte già diverse. Comunque le ragazze sono brave. Cosa volevo dire? Adesso carico qualcosa per te perché vedi che quello riprende. Adesso anche io inizio. Qui ci sono delle belle cose realizzate. Tra l'altro Mariella ha fatto anche delle palline per Natale. Poi faremo il bazar di Natale che vuole fare dei regali. Queste le ha fatte Tiziana. Guardate che sfumatura sta questa sciarpa. E quindi insomma c'è un bel movimento.